Io conto che è una splendida giornata di sole, è un sistema che ormai è fallito, è superato, il sistema dei partiti che urla, non è una persona che critica gli altri, che si fa bello accusando le altre amministrazioni. Io dico sempre che Claudio è un grande, l'idea di Claudio perché non aggregare tutti gli altri territori, gli altri comuni, che può essere Toni, può essere il sindaco di Assisi, persona in spessore e delusi, cittadini che sono disorientati, siamo un elettorato errante. Questi, e questa è una grossa parola, che domani potrebbero essere onorrivoli e non di soli, non ultimo, quello uniti, si vince. L'idea a San Martino in campo che è perderuta. Quindi vedo principalmente i problemi inerenti ovviamente. Non farà strategie, si presenterà così com'è. E dove si trovano le risorse per fare, perché sennò restano solo delle bellissime idee sulla carta. Quindi questa piazza, questa piazza a virtù. E' anche il motivo per cui noi diciamo che la stazione ferroviaria ha media velocità, non pretendiamo che... ...moderate che hanno e si ritrovano al di là, ripeto, delle provenienze, il tema della famiglia, dei diritti della famiglia, quindi tutto ciò che... ...1930 al Parco Hotel a Ponte San Giovanni, dove presenteremo il sito internet del Movimento Civico, con entrare veramente a cambiare le cose, perché le cose purtroppo... ...Cesco, così vi do anche le coordinate, sempre in 14... ...ed essendo la prima volta che ci presentavamo... ...magari tutta la nostra voce hanno aumentato l'illenità. No. ...non ancora qui, io e dentro, resto su questo perché altrimenti... ...ma oggi, il vitalizzo a livello di... ...ma oggi, che sono state per far compara il nostro... ...verso un vero... ...agriasse in ferroviare il nostro... ...aprendiamo il nostro... ...pocche qui mientras sopra...